Lorenzo è un forte ragazzo, adesso penso che tutti devono capire che Lorenzo è uno giocatore che sente più la Roma, sente più la responsabilità. In questo momento difficile penso che ha sentito di più la responsabilità di essere romano, magari è un giocatore che ama più la Roma in questo momento e per lui non è stato facile, ma io penso che deve continuare a lavorare per ritornare al meglio momento perché non possiamo dimenticare quanto è stato importante Lorenzo in questa stagione, in questi primi sei mesi della stagione. È un forte ragazzo, io penso che recupera velocemente o meglio, o che può fare meglio. In questo momento per recuperare la fiducia penso che dobbiamo concentrare solo in quello che dobbiamo fare e ritornare alla squadra a credere in quello che abbiamo fatto. Perché abbiamo fatto? Questa non è una squadra che ha iniziato adesso e che non ha giocato bene, non ha dominato tante partite contro tante squadre forti, è la stessa squadra, perché la stessa squadra devono credere che è possibile fare, è possibile fare bene. Penso che mentalmente è questo. E dopo, come ho detto, la questione tattica, questo non è, penso che non è un momento in cui dobbiamo cambiare molto, dobbiamo ritornare a quello che abbiamo fatto anche tatticamente, ha fatto bene anche tatticamente, quello che è più confortabile per i giocatori, quello che loro conoscono meglio. Penso che è questo che dobbiamo fare con questa squadra. È importante ritornare a fare bene le cose in tutto il momento della partita. Io posso dare un esempio. Oggi la squadra non ha rischiato molto, ma ha optato anche nel momento in cui possiamo giocare avanti, giochiamo indietro e abbiamo giocato molte volte con Paolo Lopez. In altri momenti, quando giochiamo con Paolo, abbiamo sempre linea di passaggio. Oggi è stato difficile perché non abbiamo linea di passaggio. E' il momento. Dobbiamo lavorare per ritornare a quello che abbiamo fatto bene.